ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di clash of friends allora ragazzi nello scorso episodio abbiamo fatto un attacco sul primo villaggio allora ragazzi in questo episodio allora a parte che in questo villaggio ho modificato un po la disposizione poi siamo saliti di livello successivo della sala dei costruttori ce l'abbiamo a livello 4 mi scuso tanto se ieri non è uscito nessun video ma in realtà doveva uscire questo video di clash of friends ma purtroppo youtube non me lo faceva caricare non so in perché e quindi ho dovuto restattare tutto e pubblicarlo oggi che dovrebbe uscire domenica allora faremo l'attacco che ci manca lì sotto per vincere gli ultimi bonus intanto ho sbloccato la gruppa che per me insomma mi piace molto cioè ovvero il bombarolo veramente ragazzi è un qualcosa di assurdo veramente una cosa veramente assurdo e qui possiamo anche sbloccare il cucciolo di gargo però già ce l'ho sbloccato nel primo villaggio l'ho già provato e quindi penso che sia la stessa cosa però lo stesso dovremmo andarci a sbloccare per andare avanti di caserma allora fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa migliorare tra queste altre quattro gruppe i barbari gli aceri giganti gli sgheri mutanti fatemelo sapere qui sotto nei commenti intanto qui le mie gruppe sono pronte in realtà il bombarolo l'ho un po' utilizzato ma non mi è andata bene l'attacco con lui quindi per il momento non lo userò tanto qua ho persa la connessione non si sa il perché ho perso all'improvviso connessione non si sa il perché va bene ma dato pure best io sinceramente ai creatori della supercell modificherei molto ma molto gioco cioè il secondo villaggio lo dovrebbero per forza andarlo modificare perché non si può sta cosa che se tu vai ad attaccare intanto qua stanno scrivendo che se tu vai ad attaccare un villaggio e tu perdi non so connessione oppure non so esci per sbaglio cioè te la devi dare per forza questo fatto che hai attaccato perché una cosa se uno attacca e perde connessione uno non dovrebbe nemmeno andare a perdere i trofei e l'altro che insomma la battaglia non si sia mai avviato intanto qua a posto di perdere tempo che trattano su sette gemme cerchiamo il secondo avversario sperando di non perderla stavolta la connessione e mi pare che non la sto perdendo quindi dobbiamo stare bene o male attenti che qua sicuro delle trappole ci sono sicuramente ma veramente veramente assai ora o mai più perché altrimenti gli aceti sono quelli che andranno a finire male tra tutti tanto è gigante che passa da un lato all'altro a causa del fatto che ha peccata la grappola purtroppo attivato lo spacca tutto però in municipio siamo riusciti a spaccaglielo se riesco questa serie potrebbe riuscire a farmi almeno riuscirmi a fare due stelle ti prego c'è no vabbè va bella ci ha provato la c'è e l'abbiamo vinta ragazzi ha fatto il 40 per cento e non è ma cazzo attaccato con gli sgherri mutanti ma scusami cando ma che mi attacchi a fare con gli sgherri cioè è vero che ci sono i lati dove mi puoi fare una percentuale però non è che c'ho la difesa aerea laggiù e tu devi usare questo poi vabbè ragazzi questa è una decisione degli avversari non è che sono io che devo scegliere devo scegliere io ciò che devono fare e vabbè l'abbiamo vinta intanto qua vi faccio vedere tipo eccolo qua l'attacco del bombarolo che poi attacco ragazzi veramente se mo vi faccio vedere bene che cavolo ha fatto il bombarolo cioè a posto di bene di colpire le murano qui intanto stavano morendo tutte le mie truppe guardate bene cioè il bombarolo a posto di colpire le mura colpisce anche lì così a random li colpisce per me poteva anche essere un'ottima soluzione ma purtroppo il bombarolo ha perso tempo di nuovo sulle mura però è un suo obiettivo colpire le mura quindi a meno insomma sono rimasto un po stupito del fatto che non ha voluto solamente pensare le mura bensì ha distrutto una struttura una difesa quindi intanto vediamo un po cosa potremmo andarci a migliorare questa potrei conservarlo l'oro ma sinceramente porto avanti la torre della cera che mi è molto utile va beh ragazzi io direi che questo video è tutto spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa volete nel prossimo episodio noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti